amici sportivi amici scommettitori bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video allora ragazzi siamo ancora come potete vedere e ascoltare in modalità provvisoria vi assicuro che tornerò presto a far vedere la mia faccia a far vedere la mia macchina a far vedere insomma tutto un video completo con voce e faccia per il momento vi dico solamente che ci vedremo probabilmente tra un paio di settimane ma comunque non voglio farvi mancare il mio appoggio i miei pronostici ci sono delle partite molto interessanti per gli ottavi di ritorno della champions league alcune squadre già qualificate o quasi come il psg che ha vinto 4 a 1 in casa del barcellona altre partite molto aperte come per esempio juventus porto dove la juve ha perso appena 2 a 1 in casa dei portoghesi e ha il ritorno in casa con quel gol di federico chiesa che le dà la possibilità concreta di poter passare i quarti di finale partite come liverpool lipsia dove lipsia dovrà fare l'impresa o anche il siviglia col borussia dortmund dovrà fare un'impresa in casa del dortmund non impossibile ma avendo perso in casa di sicuro queste due squadre dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo cominciamo coi pronostici partiamo con dortmund siviglia come appena detto il siviglia ha bisogno di un grandissimo risultato di una grandissima prestazione contro un borussia dortmund che segna ma è molto fragile come dimostrato nel derby no nel derby nella partita col bayermono che è il classico il classico lo chiamano in germania io qua prevedo che ci saranno dei gol perché non è non sarebbe logico per il siviglia chiudersi aspettare il momento giusto deve deve vincere con almeno due gol di scarto deve provarci sin da subito quindi probabilmente snaturerà un pochino il suo modo di giocare a land oland che dir si voglia secondo me comunque timbrerà ancora il cartellino in questa partita e quindi prevedo un gol che è dato a 1 e 50 juventus porto l'unica partita dove mi sento di mettere un segno qua mettiamo l'uno perché la juve nettamente secondo me più forte del porto anche se dovrà fare una grande partita contro un avversario di tutto rispetto in europa perché il porto ha comunque una tradizione che le consente di non andare a giocare impaurita su qualsiasi campo d'europa ma credo che la juve se concentrata e attenta potrà portare a casa la qualificazione mettiamo l'uno che è dato a 1 e 45 liverpool lipsia basterà una partita d'attenzione per il liverpool per passare il turno ovviamente ci si augura che non sia il liverpool formato premier league perché in quel caso sarebbe un vero problema il lipsia però non ha nulla da perdere è una squadra che può venire qua segnare almeno un gol credo che liverpool alla fine passerà il turno non senza qualche patema e quindi mi sento di me di mettere gol che è dato a 1 e 57 chiudiamo i nostri pronostici e la nostra schedina dopo vi dirò quale sarà la quota totale con psg barcellona 4 a 1 come detto prima per il psg all'andata sul campo del dei catalani qua credo che non ci sia nulla da dire se non augurarsi una partita di spettacolo dove magari il barcellona proverà almeno a non a giocarsi l'onore la dignità uscire a testa alta quindi qua prevede una partita da over 2 e mezzo quota 1 e 40 se andiamo a moltiplicare tutte queste quote 1 e 50 per 1 e 45 per 1 e 57 per 1 e 40 viene fuori una quota di 4.8 se avete se poi aggiungiamo un piccolo bonus magari la quota sia rotonda 5 giocando 10 euro ci portiamo a casa 50 euro quindi un guadagno di 40 euro puliti va bene ragazzi poi decidete voi giocatene 5 giocatene 10 giocate quello che comunque vi consentono le vostre tasche non andate mai oltre spero di avervi dato una schedina vincente vi invito come sempre a iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto e a lasciare un bel mi piace io vi saluto vi auguro di vincere tanti soldi ciao ciao